Ok, in questo video parlerò delle mie teorie evoluzionistiche. Mamma mia, che roba! Allora, ogni tanto sento questo bisogno di esprimere totalmente quei sono i miei punti di vista e quello secondo me verso cui stiamo andando a livello relazionale e sociale. Fra moltissimi anni, io sono convinto, non probabilmente in questo secolo, però con il passare del tempo e con l'avanzamento della tecnologia, io sono fermamente convinto che nel lungo termine le relazioni saranno destinate sempre di più a svanire e che non ci sarà più una relazione sentimentale di base con un prospetto di monogamia perché più sarà facile sopravvivere all'interno della società e quindi più saremo avanzati tecnologicamente, meno sarà necessaria la presenza di un nucleo familiare perché ci sarà già il globale di fondo. Questo che cosa significa? Significa che se, cioè, più andiamo verso la globalizzazione, quindi più diventa ovvio e palese che siamo più connessi, alla fine del tempo l'intero pianeta sarà completamente connesso, quindi saremo tutti interconnessi, e questo porterà al non bisogno di avere una sorta di nucleo esclusivo come quello familiare perché già di per sé la Terra sarà un nucleo totale, cioè l'umanità sarà un nucleo complessivo. Cioè io penso che potrebbe accadere questo, nonostante le differenze razziali, differenze etniche, differenze culturali che ci sono, alla fine dei conti si tenderà alla non relazione, no? Ed ecco perché oggi al giorno d'oggi è diventato più facile e più difficile di creare qualcosa di stabile, ma è più facile creare qualcosa di non stabile. E questo ti fa pensare, se tu ti chiedi perché, perché una relazione stabile nel 2020 è più difficile rispetto a una relazione che magari di circa 30 anni fa, 20 anni fa era più facile, si riusciva a rimanere un po' più stabile, eccetera. Perché? Secondo me è a causa di quella che è la globalizzazione, è a causa dell'avvento della tecnologia, del miglioramento della tecnologia, dell'aumento della connessione tra esseri umani che è diventata sempre più veloce. C'è sempre più a disposizione un quantitativo di opportunità maggiori. Cioè non è che noi non siamo mai stati così, noi siamo così come esseri umani come siamo oggi. Il fatto è che la tecnologia poi espone quello che è tra virgolette la tua natura di base, ovvero una natura fenifraga che è funzionale alla riproduzione. Quindi è molto difficile oggi, con tutti questi social network e tecnologie, eccetera, riuscire a mantenere una relazione stabile. Le relazioni stabili sono una sorta di utopia per come vengono concepite. Cioè nel senso, il concepimento di relazione stabile è quella situazione dove si ipotizza che l'amore vada a vincere su tutto. Amor omnia vincit, che non mi ricordo il detto adesso com'era. Però lì dipende, perché lì si intende amore per qualcosa, la passione per qualcosa. Perché è l'amore, l'amor proprio, quello vince su tutto. L'amore per le proprie teorie, per le proprie passioni, per i propri hobbies forse. Ma veramente si intende l'amore di coppia? Perché non serve solo l'amore per vincere con la tua coppia sentimentale. Non serve solo quello. Serve anche la cooperazione, la collaborazione, la sintonia, la chimica nei comportamenti sociali che poi metterai in atto tutte le volte. Allora, se io dovessi pensare a una sana idea di relazione sentimentale, mi verrebbe da pensare a una relazione dove c'è sì amore, ma c'è anche una forte cooperazione da un l'uno con l'altro. Quindi mi verrebbe da pensare a una relazione dove delle persone si sostengono, quindi due persone sostengono l'una all'altra, non in termini economici, ma in termini sentimentali emotivi. Cioè in termini di supporto emotivo, di supporto psicologico. Perché alla fine dei conti un essere umano non ha bisogno di un supporto economico dal partner, perché il supporto economico vai fuori e vai a lavorare, ma ha bisogno di un supporto mentale. Cioè ha bisogno di sapere che c'è una base ferma, stabile, di una persona al tuo fianco che è pronta ad affrontare quelle intemperie, quelle onde nell'oceano, in mezzo con la vostra barca, insieme a te che non ti lascia alla prima difficoltà. È questo quello di cui ho bisogno.